6 aprile 2022, buongiorno, ben ritrovati in questo mercoledì con la rassegna stampa di 696 tv, insieme andiamo a leggere le notizie che potete trovare quest'oggi in edicola e poi la parte finale sarà come di consueto dedicata al web con spazio a 8pagine.it e anche ai principali quotidiani nazionali per gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina. In regia Aldo Fenizia ecco la panoramica dei giornali in edicola. Questo mercoledì 6 aprile 2022 iniziamo come d'abitudine dal Roma, doppia apertura. Napoli, ponte per il dialogo, Manfredi dopo lo scontro sul balletto al San Carlo, noi con gli ucraini ma serve confronto culturale. E poi clan di Lauro, a fondo del PM, omicidio per la prima faida, chiesto l'ergastolo per annunzio. Andiamo in taglio basso, nella prima del Roma, Campania, prosegue il calo dei ricoveri, covid ma risalgono i decessi. Piazza Municipio, libera dal cantiere, riaperta dopo 20 anni e poi delitto Donofrio, poteva salvarsi la guerra di Ponticelli. Pozzuoli, bradisismo ieri mattina, 23 scosse in solo due ore, la più forte di 2.0. E poi taglio alto, febbre da scudetto per il Napoli, domenica stadio pieno, Serie B, il Benevento vince a Reggio, assaltano banca con escavatore, ci spostiamo di nuovo sulla cronaca, a Fragola, spettacolare tentativo di rapina, due fermati. Queste le notizie che vengono richiamate nella vetrina della Roma e allora ci proiettiamo al suo interno partendo da pagina 4 nella fattispecie, terrore nel mondo, Manfredi, Napoli per il dialogo, il dibattito dopo le polemiche sullo spettacolo al San Carlo, il sindaco, artisti uniti contro il conflitto. Noi con gli ucraini ne capisco i sentimenti ma il confronto culturale non va affermato. E poi altri 82 arrivi alla mostra d'oltremare al residence di Ponticelli, 15 famiglie, 5 positivi su 94 tamponi e 16 nuovi vaccinati. Taglio centrale, De Luca, bagno di sangue sulla pelle di un popolo, il governatore, c'è un colpevole certo, la Russia, ma non ci sono innocenti, Europa poco credibile per la mediazione e poi corso di alfabetizzazione per chi scappa dalla guerra. Marcianise, iniziativa dell'amministrazione comunale, si cercano madrelingua, insegnanti, interpreti e mediatori. Proseguiamo con un'altra pagina del Roma e lo facciamo con pagina 8, iniziando la lettura delle pagine dedicate alle singole province, quindi partendo da Avellino. festa, alternativi al PD, pizza, così non ci sto, il primo cittadino, il partito anni luce da noi, da sempre contro l'asse Petracca, Iacovacci, Giordano, centro-sinistra, volano gli stracci, Neidem, già saltata la Pax a viataiamento, l'ira del segretario provinciale. Da Avellino siamo ora su una delle pagine dedicate a Benevento, il salvataggio dei Pini diventa caso politico, il vice segretario del Partito Democratico torna sulla questione degli alberi, patrimonio storico salvato grazie a pochi. La polemica, da un lato l'amministrazione che non vuole correre rischi preventuali i crolli, dall'altro chi spinge per una cura. Andiamo, avanti, altra pagina, da Benevento a Salerno, manifesti funebri, incastrato l'attacchino, le invettive rivolte al vescovo giudice erano scaturite dalla decisione di vietare le processioni fino a data da destinarsi. Il fatto, un 50enne è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza del comune di Nocera Superiore. e adesso Napoli, una delle pagine dedicate a Napoli, Napoli cronaca dopo aver dato precedenza ai capologhi di provincia, piazza Municipio libera dal cantiere. Abbiamo visto questa notizia in ampio rilievo anche nella vetrina, in corso i lavori per la corsia veicolare che metterà su via Acton, così via Marina, tornerà a due corsie, proseguono gli interventi nel sottosuolo, ci sarà un passaggio pedonale fino alla stazione marittima. La novità dopo 20 anni di lavori riapre alla città passeggiata che dal porto conduceva a Palazzo San Giacomo. E adesso facciamo un salto nello sport, non solo il Napoli che abbiamo già ampiamente menzionato in apertura con i tifosi che sognano lo scudetto, ieri è stato un martedì di campionato per il Benevento implacabile, è sbancato il granillo, successo giallorosso, il secondo di fila, Insigne, Forte e Moncini firmano con personalità e autorevolezza la vittoria sulla regina. Leggiamo ancora altri dettagli in questa pagina, vedete la partita minuto per minuto, le statistiche, il tabellino per le pagelle che approfondiamo nella pagina successiva. Paleari piglia tutto a Campora, ovunque le pagelle di Ivan Calabrese, voti alti per la strega in corsa per la promozione diretta, grazie a due successi consecutivi in annellati. Allora andiamo a leggere anche i risultati della trentatresima giornata, Cittadella-Perugio si gioca oggi alle 19, Cremonesi-Alessandria 2-1, Monzascoli oggi alle 19, Parma-Como così come Pisa-Brescia allo stesso orario, Pordinone-Frosinone 2-0, Regina-Benevento 0-3, Spalcosenza 2-2, Ternano-Lecce 1-4. La classifica, eccola qui in attesa delle gare odierne, Cremonese in testa alla classifica con 33 punti, Lecce a 62, Pisa 58, Benevento 57 in condominio con Monza e Brescia. E allora anche le dichiarazioni di Caserta, ieri diretta post-gara come sempre con le dichiarazioni in esclusiva dei protagonisti dei match della strega, una prestazione che lascia ben sperare. Caserta e il tecnico giallorosso non era facile confermarsi, ora conquistiamo più punti possibili. Prima di chiudere il Roma, torniamo a parlare di attualità, lo facciamo con il punto sull'emergenza pandemica, con gli ultimi aggiornamenti con il nostro Giovan Battista Lanzilli. Il Covid in Campania è ormai endemico e la curva registra una lieve risalita rispetto al dato precedente, attestandosi al 18%. Nell'ultimo bollettino sono oltre 10.000 nuovi positivi. Nel report si contano anche 13 vittime, di cui 10 nelle ultime 48 ore e altre 3 avvenute nei giorni precedenti. Stabile il tasso d'occupazione delle terapie intensive, il leggero calo, i ricoveri ordinari. In provincia di Avellino oltre 1.000 positivi, dei quali ben 157 in città. A Benevento invece sono 58 le persone ricoverate per Covid dal Sampio, ma per fortuna nessuno in terapia intensiva. Tre invece neonati sotto osservazione nella TIN perché positivi al virus. L'allentamento delle restrizioni ha però fatto ripartire il commercio e il turismo, come ha spiegato il presidente di Fipe Conf Commercio Napoli, Massimo Di Porzio, intervistato dal direttore di 8 Channel 696 Pierluigi Melillo per la rubrica Punto di Vista. Sicuramente c'è stata una buona ripresa dei livelli turistici, favorita anche appunto da questo alleggerimento dei protocolli da applicare. Io avrei auspicato una liberalizzazione totale, cioè nel senso che un po' come è avvenuto in Inghilterra o in Spagna, nel momento in cui sono state eliminate le restrizioni, sono state eliminate per tutti. Tra le priorità anche quella di fornire servizi migliori ai turisti che arrivano. Questi turisti che arrivano, che spesso rimangono sorpresi dalla bellezza delle nostre coste, dei nostri mari, delle nostre stesse città d'arte, purtroppo spesso sono penalizzati per quanto riguarda la frizione dei servizi. La Repubblica edizione nazionale in apertura, un virgolettato del presidente ucraino Zelensky, una Norimberga per Putin. La richiesta di uno storico processo come fu quello dopo la seconda guerra mondiale a Norimberga e questo che vedete, questa che vedete proiettata, le immagini di morti, anche bambini di Mariupol che scorrono sul megaschermo al Consiglio di Sicurezza dell'ONU dove è intervenuto anche in collegamento per l'appunto il presidente Zelensky all'ONU. Zelensky mostra le immagini delle atrocità commesse in Ucraina e invoca un tribunale che processi responsabili dell'orrore, viaggio a Borodianca, città di un altro massacro, a Irpin bambini torturati e uccisi, nuove sanzioni UE, embargo sul carbone e porti chiusi. E poi ancora guerra di spie, Roma espella 30 russi ma la Lega si dissocia, Draghi stiamo con la Nato, ancora Tiraspol, la Transistria ora trema, i prossimi siamo noi, Mosca proteste alternative per aggirare la censura. Lo scenario la federazione dei negazionisti, il commento, il giaccuso alle Nazioni Unite, firma Paolo Garimberti a pagina 43, l'analisi se i profughi finiscono in Russia e poi ancora sono i giovani a chiedere più smart working il racconto che crede nel Truman Show. Andiamo all'interno della Repubblica edizione nazionale, pagina 2, pagina 3, primo piano la nuova guerra, il reportage, tomba Borodianca, 200 ucraini sepolti sotto le loro case a 20 km da Buccia, nella periferia liberata da Kiev, la città è stata rasa al suolo dalle bombe, anche qui i russi hanno commesso atrocità, i cadaveri nascosti nel bosco fuori dal centro abitato. Le frasi un testimone, Yuri, 56 anni, ho visto un cecchino russo che da un palazzo ha ucciso un ragazzo ucraino, forse ubriaco, che non stava facendo niente di male e poi prima gli ha sparato vicino i piedi, poi le ha colpito a morte senza alcun motivo, quel poveretto non era un soldato è solo una vittima innocente e poi la scritta sulla schiena, se muoio portatela dai parenti è davvero agghiacciante quello che sta accadendo e questa fotografia sta facendo davvero il giro del mondo e se dovessi morire dall'inizio della guerra, Alexandra Makovi, si sarà fatta questa domanda migliaia di volte prima di scrivere sulla schiena di sua figlia i dati personali nome, cognome, età e contatti da chiamare se rimanesse solo. Le foto pubblicate tra i primi su Twitter dalla giornalista del Kiev Independent Anastasia Lapatina è diventata subito virale con oltre 66 mila condivisioni e poi a Irpin ora affiorano i corpi dei bimbi violentati e uccisi, le testimonianze nelle zone intorno alla capitale i resti delle vittime marchiate da svastiche e zeta, una superstite stuprata di fianco a mia madre, agonizzante, la riconquista ucraina e questa è la mappa del campo di battaglia, insomma infiamma lo scontro e noi andiamo avanti ancora con altre due pagine, il discorso di Zelensky che ha puntato il dito, l'ONU non ci ha difesi, cambi o si sciolga, rimuovete la Russia dal Consiglio di Sicurezza, diritto di veto non può significare di uccidere la vostra isterica propaganda antirussa, dopo Buccia ci aspettiamo altre provocazioni contro i nostri soldati, a dirlo è stato l'ambasciatore russo alle Nazioni Unite Vassili Nebensia, si è rivolto così al Consiglio di Sicurezza e le immagini che vedete insomma sono evidenti nella propria drammaticità, questo il Consiglio di Sicurezza, il Presidente Ucraina ha parlato chiedendo un nuovo processo di Norimberga contro i crimini russi e una conferenza internazionale a Kiev per costruire un nuovo sistema di protezione, l'Europa indaga su Mosca, raccogliamo le prove dei crimini di guerra, procure al lavoro anche in Italia sulle testimonianze dei rifugiati e allora direi che possiamo proseguire dopo questa prima finestra sulle notizie per quanto riguarda la guerra in Ucraina, tornando a parlare di Campania con la Repubblica Edizione Napoli in apertura, Bagnoli cambiare il piano, l'accusa di Manfredi bloccato lo sviluppo, Falconio costi enormi per la bonifica integrale, non si sa dove mettere milioni di metri cubi tra fondali e colmata, apriremo le aree già bonificate, PNRR allarme svimez per i fondi al sud lontani dal 40%, il commento dopo la sentenza servono nuove soluzioni e ancora in taglio alto Castellammare il boss dell'ex capogruppo PD, il segretario Sarracino chiede l'espulsione di Jovino per l'intercettazione con un emissario dei D'Alessandro, la magistratura procura antimafia, il CSM ascolta Melillo e lui il favorito e poi Drive My Car imperdibile e viaggio, si parla del film giapponese che è stato premiato con l'Oscar per il miglior film straniero e poi l'urbanistica, la nuova piazza municipio, vie e cantieri dopo 22 anni. Altro break per quanto riguarda la nostra rassegna stampa e parliamo della questione relativa al PNRR, il servizio è firmato da Rossella Strianese. Sullo sviluppo dei progetti del PNRR si avvertono segnali positivi dagli enti locali, però bisogna mettere a terra queste risorse lavorando con velocità e determinazione. Lo ha affermato l'amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti Dario Scannapieco che da Napoli oggi ha fatto partire l'itinerario nazionale della Cassa Statale per fare il punto su come si sta lavorando sul PNRR, in particolare nel Mezzogiorno a cui è destinato il 40% delle risorse. Nella cornice del Real Bosco di Capodimonte sono stati presentati gli strumenti e i progetti del gruppo in favore di imprese e pubblica amministrazione. Siamo sempre stati molto presenti nel territorio e con le imprese, ricordo che negli ultimi due anni e mezzo abbiamo destinato circa 5 miliardi di imprese ad oltre 12 mila imprese della campagna, 6 mila nel territorio di Napoli e ora con il PNRR si aprono ovviamente nuove opportunità. Il presidente De Luca si è soffermato ancora una volta sulla necessità di sburocratizzare i processi. Nel senso che teoricamente il PNRR destina al Mezzogiorno il 40% delle risorse, ma ovviamente questa cifra rischia di essere virtuale perché non tiene conto degli investimenti che fanno le grandi aziende pubbliche. In ogni caso è una bella sfida, ovviamente la sfida si vince se riusciamo a dotarci di progetti esecutivi e se determiniamo una volta tanto una sburocratizzazione radicale nel nostro Paese con la spada, se non facciamo quest'operazione il PNRR non si realizzerà. Il mattino edizione nazionale, apertura a 6 colonne, bimbi torturati, l'ONU reagisca, Zelensky una nuova a Norimberga, ora la Russia va privata del potere di veto, Rory, Airpin e Borodianca due stop al carbone di Monska, sanzioni sui porti. E poi quello che vedete è un reportage fotografico per quanto riguarda il racconto dei bambini arrivati profughi a Napoli, il racconto tra i banchi, più che fotografico è un reportage che va a porre in evidenza i disegni di questi bambini. Mamme uccise, bombe sulle scuole, i disegni shock dei piccoli profughi. E poi inchiesta Bagnoli, in fumo 100 milioni tra opere bonifica, l'accusa bocciata in appello a 14 anni di sequestri, impianti finiti in rovina, società fallite e rilancio KO. Il Nord in agguato, fondi del recovery, i rischi per il Sud se non vigila bene. E poi Sofia, la ciociara e il coraggio delle donne in tutte le guerre. Sabato il libro sulla Loren in regalo con il mattino e quindi anche altri temi che vengono toccati, oltre a quelli della guerra, che vengono sviscerati anche attraverso questi approfondimenti. Tra Stati Uniti e Russia, l'Europa senza soldati non riesce a trattare dove nasce l'odio perché Putin non si giudica con le vecchie categorie. Andiamo avanti con un'altra prima che è quella del mattino edizione Napoli. E allora leggiamo l'apertura che è stata scelta. Bagnoli, danno da 100 milioni, le conseguenze dell'inchiesta flop, bonifica ferma, società fallita e le poche opere distrutte. Il disastro, 14 anni in attesa della sentenza definitiva, nulla di quanto era stato realizzato ha resistito. E poi piazza municipio, ci sono voluti 20 anni. La riapertura e la bellezza ritrovata dopo i lavori lumaca. L'intervista, PM responsabili, ma la politica è stata inerme. Questo è ovviamente il parere dell'ex manager Hubler sul caso Bagnoli. È stato un calvario, la città ha perso un'occasione. Poi cosa succede? Ripescati suoli già risanati si potrà costruire. Festa della liberazione, Mattarella ad Acerra. Il ricordo della strage dei nazisti, comune colto di sorpresa. Il 25 aprile il presidente Mattarella sarà ad Acerra. Poi legalità, Morcone, bene il questionario, poi iniziative organizzate in ogni scuola. Avanti, altra prima, quella del mattino nella sua edizione Avellino. E allora leggiamo. L'apertura è dedicata alla politica. Festa, sfide il PD, mai con loro. Il sindaco rilancia la candidatura per il 2024 e attacca il trio Petracca, Iacovacci, Giordano. La politica, la guerra per il comune, acuisce la spaccatura tra segreteria democrat e componente de Cariana. E poi gli offieri ricorrono al Consiglio di Stato. Mossa dei ex sindaci di Prato la Serra, centro commissariato nel 2020. La violenza, troppi abusi sui bambini nel silenzio, un progetto per formare l'abominio. E poi la pandemia contagia ancora sopra i mille, ondata di test nel capoluogo. Avanti, altra prima pagina, ed è quella del mattino edizione Benevento. Eccola, la carichiamo. E allora, in apertura, NDC, al voto, alleanze libere, Mastella, centro, serve più coraggio. Apertura a Forza Italia, ma Martuscello polemizza a Roma la presentazione dell'organigramma. Barone, capo della segreteria, Di Maria, in platea. E poi due focus sul turismo. Il primo, Pasqua, sold out negli agriturismi, ma prezzi più alti. Il secondo, De Toma, la ripresa sarà lenta. Ora serve un'offerta articolata. Profughi, altri posti in parrocchia. L'accoglienza, Don Mainolfi, arredi con i soldi delle offerte. E poi, tanto spazio per il Benevento, superlativo. Viene definito così, in apertura dal mattino edizione Benevento. Vittoria con la Regina e zona Serie A vicina. Il calcio blitz con i gol di Insigne, Forte e Moncini, 0-3 al Granillo e le Paggelle. Ci sono anche sul mattino, ovviamente, così come sul Roma, ad evidenziare la prestazione di Paleari. Teglio entra e incanta le interviste. Caserta in campo, Spirito Vincente, ora testa al Vicenza. Da Benevento, dalla prima del mattino Benevento, ci spostiamo alla prima del mattino edizione Caserta. L'apertura, osservatorio in prefettura, la movida vigilata speciale. Istituito il tavolo permanente con sindaci e polizia, riunioni mensili. Le strategie contro le notti violente, una task force per Caserta e Averse. Poi, bando da 40 milioni, anche Publi Parking, ora fa ricorso al TAR. La mobilità intelligente va in tilta anche dopo la modifica del comune. E poi, ASI, la formazione, un percorso per reinserire i detenuti. Ancora, andiamo a leggere altre notizie. Nella vetrina della mattino edizione Caserta, Pietra in strada, chiusa via San Carlo, la demolizione e il palazzo sgretolato. Ancora altre notizie. Sono quelle proposte dal mattino edizione Salerno, dove in apertura c'è questa notizia. Nel bar La Centrale dell'Usura, interessi fino al 400%, scacco alla banda di Pisapia, la riscossione nel locale di Torrione. Il blitz, 12 vittime accertate, l'uomo gestiva gli affari del carcere con due donne a cui era legato sentimentalmente. Le indagini, manifesti funebri contro giudici, ecco l'attacchino, è un esecutore. Poi l'intervista all'arme Battaglini si denuncia solo dopo l'escalation di violenze e abusi. Torrione, l'SOS di Emanuele, 11 anni, aspetto di tornare a giocare. Il parco, sindaco, lo tengo aperto io. E poi, ok, dalla procura, rifiuti tunisini, dal porto a Serre. Summit in prefettura con il via libera definitivo. Non ci sono sostanze pericolose o radioattive. L'ambiente, i sindaci, smaltimento in tempi certi. E poi l'inaugurazione, due fari allo scallo commerciale per illuminare 12 miglia d'acqua. Andiamo avanti e ultimiamo la parte dedicata ai quotidiani cartacei. Anche se sapete che la cronaca è fruibile in versione digitale. E allora, in apertura, Procida, capitale della cultura, troppi soldi, pochi interventi. Raffica di delibere dell'aggiunta con finanziamenti a pioggia per una cifra di 15 milioni di euro. De Luca, faccia chiarezza, Scabec, Salzano e la Tartaglione incontro stamane per lasciare. Prendono quota le accuse di Nappi. E poi le amanti di Luciano Pisapia, Anna Pastore e Laura Miale gestivano l'usura nel bar di Torrione, di Giuseppe Celenta. Quattro arresti. Le vittime erano commercianti della zona orientale. Terminata la parte dedicata ai quotidiani in edicola. Ci spostiamo adesso sul web, partendo innanzitutto da 8pagine.it per leggere apertura e notizie in primo piano. In apertura c'è il Benevento, strepitoso il granillo, Tris alla regina, lo sport dunque che si prende l'apertura di 8pagine.it. Poi Giordano Operato a Milano, sindaco in ripresa, saluta sui social, gioia in paese, il sindaco di Monteforte Irpino. E poi politica, Benevento, Abate, costi personale per progettazione ed altro, ammissibili al PNRR. Ci torniamo a breve su 8pagine.it, ma diamo gli ultimi aggiornamenti sul conflitto in Ucraina con l'Ansa e la sua apertura ormai fissa a tutta pagina. L'Ucraina indaga su 5.000 crimini di guerra, su crimini contro l'umanità e sul genocidio. La comunità internazionale si appresta ad un'ulteriore stretta su Mosca. Nuove sanzioni sono in programma da parte degli Stati Uniti contro altre banche e imprese statali, ma il centro del mondo oggi sarà Bruxelles, dove gli ambasciatori dell'Unione Europea vareranno un quinto pacchetto di sanzioni. Dopo buccia, orrore a Borodianca e Irpin, lira di Zelensky all'ONU, Mosca, accuse infondate. E poi dai militari russi a busi su bambini anziani, Blinken, Stati Uniti sbloccano 100 milioni di aiuti supplementari, da Twitter limiti ad accesso alla propaganda russa e poi vittima a foto, simbolo, buccia riconosciuta per lo smalto. E poi ancora il viaggio dell'inviato Anza da buccia a Borodianca e dunque tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Vediamo anche la prima del Corriere della Sera nella Fattispecie. Possiamo andare a leggere insieme Remuzzi. La diffusione della variante X è iniziata. Cos'è? Perché preoccupa il direttore dell'Istituto di Ricerca Farmacologica Mario Negri. rilenca 5 ragioni per essere ottimisti e 3 motivi di preoccupazione sull'evoluzione del Covid. Da Shanghai, 26 milioni di persone in lockdown, bimbi piccoli tolte ai genitori e morti non denunciate. Crisanti, la mascherina non basta più, Omicron troppo contagiosa. E poi il caso di Rescaldina, Carlo Maltesi, parla all'ex moglie dell'assassino, l'ho visto dopo l'omicidio. Era tranquillo. Dunque c'è anche spazio per altre notizie nella prima del Corriere della Sera online. Però ovviamente c'è la guerra in Ucraina. Blinken, 100 milioni in missili e aiuti militari. Mosca, risponderemo a ogni mosso stile. A Borodianca, macerie e segni di torture. Vedete uno dei palazzi sventrati dalle bombe. E poi il mattino andiamo a leggere insieme le notizie. Mamma ho visto la guerra, carri armati, sangue e fiamme negli segni dei bimbi ucraini. Notizie riportate ovviamente anche nell'edizione online del mattino. E poi Ucraina, live, l'orrore di bucia, trovata una nuova fossa comune. Ucraina, ecco le squadracce della morte. Mongoli, ceceni e siberiani, bimbi torturati e uccisi. L'orrore nelle città liberate, segni di stupro sui piccoli di nemmeno dieci anni. Carbone russo, stop dalla Unione Europea. Bruxelles, sospende anche banche, porti e tir. Vedete insomma le immagini dei cadaveri rinvenuti in questa fossa comune. E poi andiamo avanti con la Repubblica. Dove c'è il live della guerra ucraina-russa in primo piano. Con questa foto drammatica. Brodianca, una donna anziana col suo gatto davanti a quel che resta di un edificio residenziale distrutto. Diretta, Kiev, 400 dispersi nel suo borgo di Hostomel. Dagli Stati Uniti altri 100 milioni emissili. Javelin, Brodianca, centinaia di morti sotto le case. I massacratori di bucia in fila per spedire a case i beni razziati ai morti. E poi i soldati e le violenze, i ceceni di Kadirov e le altre minoranze dietro le atrocità. La parte dell'esercito russo in guerra senza motivazione. Il racconto. A Irpin affiorano i corpi dei bimbi violentati. La superstita è stuprata accanto a mia madre agonizzante. Sono tanti davvero i racconti, davvero molto duri anche da leggere, che arrivano dall'Ucraina per quanto riguarda il conflitto in corso. La guerra, la variante Transistria, se bombardiamo adesso da qui gli ucraini ci invadono subito. E poi da destra a sinistra la cosa negazionista che fa il gioco di Putin. E poi andiamo adesso di nuovo sotto pagina.it, dopo aver dato anche doverosamente gli aggiornamenti sul conflitto tra Russia e Ucraina. Duro colpo alla criminalità organizzata. Sequestrati 500 kg di cocaina, la droga è stata rinvenuta in un capannone, sono in corso indagini da parte dei carabinieri. E poi nuovo scandalo in carcere. Santa Maria Capoavetere, arrestato agente in possesso di droga, aveva tentato di introdurre all'interno del penitenziario 100 grammi di hashish. Benevento, con una certa prestazione che mi lascia ben sperare, il tecnico giallorosso non era facile confermarsi, ora vogliamo più punti possibili. Ecco Reati, 179 casi nel 2020 nel Sannio, occorre tenere alta l'attenzione, incontro sui comafie promosso dal coordinamento forum dei giovani della provincia, e poi auto contro scooter. Andiamo a leggere la notizia per quanto riguarda una delle tante news che arrivano dalle varie sezioni provinciali, fruibili dalla home. E allora, ci siamo quasi, sta diventando una corsa ostacoli, ma ce la faremo, e rieccoci sotto pagina .it. Stavamo leggendo questa notizia, auto contro scooter, morto un 54enne, infermiere salernitano, la guida della vettura che ha travolto il mezzo a due ruote, un 85enne, dunque notizia drammatica. E poi dall'Italia e dal mondo, le varie sezioni che potete fruire, nel menu a tendina, in alto per quanto riguarda anche i vostri dispositivi mobili, cronaca, furto casseforti in banca, arrestati gli autori, è accaduto da Fragola, politica, la destra verso il futuro, da Avellino Rastrelli e Tatarella, e poi ancora, economie, barone dell'Asi, scalomerci, lavoro va avanti, spazio per vini, perché no, cultura, giovedì il concerto a colazione con Robert Schumann, Carla Maria von Weber, e poi dai comuni, chi anche è biodigestore, slitte il confronto, d'Alessio Comitato. Rientriamo in studio, vi ricordo gli appuntamenti con la nostra informazione, che torna alle 14, con il nostro TG News regionale, e poi alle 19.45, nuovo appuntamento serale col TG News, nel mezzo alle 14.30, nel TG Sport. Questi sono alcuni degli appuntamenti, da seguire sulle nostre frequenze, oggi mercoledì 6 aprile 2022, per il momento è tutto, un ringraziamento in regia D'Aldo Fenizia, buon inizio di giornata, e buon proseguimento con la nostra programmazione. Grazie.